E' interessante invece, guarda bene, come vedi ora sono nel mio stato normale Adesso sono un super saiyan Mentre questo, guardalo bene, questo è il guerriero super saiyan che ha oltrepassato il limite E si chiama super saiyan di secondo livello Ehi, che razza di trasformazione è? Io non vedo nessuna differenza E adesso? Cosa un super saiyan che supera ulteriormente il limite non può essere? Sarebbe di terzo livello Secondo me Goku sta bleffando, è ovvio, come può andare ancora oltre? Guardate! No, non posso crederci Supererò il limite del super saiyan secondo livello No, no, smettila Goku Se continui cosi sprecherai minuti preziosi Ma è mai impossibile che tu non lo capisca Il tuo tempo sulla terra ha un limite, te lo sei scordato E' impressionante La sua aura sta continuando ad aumentare Stai attento Ehi, ma che succede? Ma è pazzesco Sprigiona molta piu energia di prima Oh no, è un brutto segno Meglio che mi sbrighi Ehi, ma che succede? Basta così, adesso fermati, Coco Che succede ? Uno strano fenomeno si sta Ma cosa ? E' come se la terra stesse andando in frantumi Questa mi sembra che sia l'energia di Goku Eppure è così lontano Cosa chiamine sta succedendo qui ? Eppure è così lontano Non te l'aspettavo Trema, trema E questo è il super saiyan di terzo livello Mi dispiace di avervi fatto aspettare un po' Sapete anch'io non mi sono ancora abituato No 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 No